casa editrice leonida leonida edizioni l'editore domenico polito la casa editrice leonida è il fiore all'occhiello della regione calabria è una meravigliosa una meravigliosa casa editrice diciamo che nel panorama dell'italia meridionale brilla la casa editrice leonida vediamo nell'italia meridionale abbiamo in sicilia a palermo c'è la casa editrice sellerio e poi nelle puglie c'è un'altra casa editrice ora non ne ricordo il nome nelle puglie mi verrà in mente in calabria in calabria c'è la casa editrice leonida in campania c'è qualche casa editrice però nel panorama editoriale della dell'italia meridionale la casa editrice leonida si caratterizza innanzitutto pubblica a spese dell'editore non sono mica tante le case editrici che pubblicano a spese dell'editore io ve l'ho già detto cari amici ve l'ho già detto in mille video ve l'ho già detto che l'italia pullula 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 di case editrici che te lo pubblicano subito il tuo libro ma te lo devi pagare tu 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 e invece no potete fare una verifica sul web il web vi dice tutto e di più il web vi dice quali sono le case editrici che pubblicano a proprie spese che sono le case serie le case edite serie e poi vi dice pure se cercate se cercate delle ricerche vi dice no questa case editrice pubblica a pagamento beh io vi posso dire che è il 99% il 99% delle case editrici italiani pubblicano a spese dello scrittore umberto ecco ci aveva scritto un intero romanzo sulla situazione e nel suo romanzo il pendolo di Foucault umberto ecco parlava parlava degli asp a un acronimo asp asp autori no ap ap s ap s autori proprie spese andate andate a leggere voi il romanzo di umberto ecco al pendolo di Foucault che un fatto che parlare di ap s autori proprie spese beh adesso però tutti vogliono pubblicare per la casa editrice leoni da edizioni di domenico polito io la conosco bene la casa editrice e leoni da edizioni di domenico polito è perché nel dicembre 2019 è uscita questa mia opera storico mitologica vedete questo questo è il simbolo della casa editrice leoni è uscita questa mia opera che è andata e sta andando a gonfia vere continua a vendere continua a vendere allora vediamo un po che cosa scrive l'editore cosa è stato costretto a scrivere l'editore un messaggio pubblico vediamo domenico polito cosa scrive la leoni da edizioni comunica di non poter accogliere per l'intero anno 2021 nuove proposte da pubblicare l'attuale organico della casa editrice non riesce ad espletare la fase di vaglio dei testi nel giro di pochi mesi abbiamo ricevuto 31 inediti da valutare alcuni autori irrispettosi del lavoro editoriale e senza alcuna consapevolezza dei propri limiti avanzano e nutrono delle pretese che non possono trovare accoglimento da parte nostra da qualche anno la realtà editoriale che rappresento ha assunto lo status di casa editrice di media grandezza al dato numerico 60 pubblicazioni all'anno continuiamo a garantire la qualità quindi ad eccezione fatta per gli inediti filtrati dai nostri direttori di collana non sarà possibile valutare prendere in considerazione l'ipotesi di altre nuove pubblicazioni sono comunque lieto di annunciare l'apertura di una sede di rappresentanza in quel di campo calabro a partire dal mese di novembre 2021 questo è il messaggio dell'editore domenico poli della casa editrice leone edizioni io cercherò di mettere come link nel riassunto di questo video allora vediamo un po cari amici cari amici ma non è facile pubblicare un proprio saggio un romanzo io sono diventato autore della casa editrice leone edizioni di domenico polido ma io sono questo qua vedete chi sono io sono questo qua eh vedete che sono questo qua per esempio vedete qua la lama e la rosa è stata edita dalla casa editrice internazionale a chet nella collana codici segreti della storia ha venduto oltre 50.000 copie ed io come diritti d'autore ho avuto 15.000 euro sì poca cosa però 50.000 copie 15.000 euro quando io proposi all'editore domenico polido della casa editrice leone edizioni di pubblicare ex novo ex novo perché perché questa mia opera questa mia opera era già stata pubblicata una ventina di anni fa vedete eccola qua dalla casa editrice a liberti in tre in tre edizioni e poi sono andate zaurite le tre edizioni io sono tornato proprietario dell'opera per cui ho proposto all'editore domenico polido di pubblicare ex novo l'opera la stirpe del serpente eccola qua una ventina d'anni fa ed ora eccola qua l'editore l'ha pubblicata l'opera però aveva a che fare pure con un editore diciamo così di lungo corso di lungo corso di lungo corso e beh ma mica tutti e come come ha fatto Serafino a diventare un editore di lungo corso perché Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei dicei classici scientifici poi è stato preso di ruolo nei dicei classici scientifici e per guadagnarsi il pane quotidiano non c'era poco di tempo per scrivere le proprie opere e sì vabbè nonostante io mi dovesse guadagnare il pane quotidiano scrivevo anche di notte il sabato la domenica e poi per 15-20 anni ho fatto la fila ho fatto l'anticamera l'anticamera alle case editrici ma è una faticaccia c'è da sudare cioè non è che uno scrive un'opera e poi dice me la pubblico no no non si pubblica niente io vi posso dire che che viene pubblicata da una casa editrice seria viene pubblicata un'opera ogni 10.000 ogni 10.000 scrittori ogni 10.000 scrittori ce n'è uno uno che riesce a pubblicare la propria opera per una casa editrice non a pagamento come la casa editrice Leone delle edizioni Domenico Polito beh guardate io sulle questioni ne ho parlato tantissimo c'è questo mio panflet questa mia panflet panflet vuol dire opera opera polemica editori e scrittori che è stato recensito pure sul Corriere della Sera io la questione la conosco molto sì il Corriere della Sera l'hanno recensito quasi tutti i giornali italiani in primis il Corriere della Sera eccola qua editori e scrittori e io vi posso dire che si fa tanta fatica voglio chiudere qua dicendo che l'editore Domenico Polito ha fatto bene a lanciare questo pubblico messaggio va bene Domenico Polito ah qua vorrei dire vorrei dire in anteprima in anteprima in anteprima vorrei dire qua in anteprima che dopo il successo ottenuto dalla stirpe del serpente dalla stirpe del serpente che era già stata pubblicata una ventina d'anni fa da Aliberti Edizioni ora l'editore Domenico Polito ha deciso di ripubblicare di ripubblicare il marinaio dell'antile eccolo qua anch'esso è uscito una ventina d'anni fa e del quale il marinaio dell'antile sono tornato proprietario va bene? bene cari amici bene cari amici vi ho dato la notizia in anteprima ho parlato dalla casa edificio di Domenico Polito e ho parlato pure di Serafino Massoni di Serafino Massoni e di Serafino Massoni posso dire che ora Serafino Massoni è uno dei più potenti opinionisti del web perché Serafino Massoni opera sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e Youtube e su Youtube Serafino Massoni ha oltre 12.000 video e circa 11 milioni di visualizzazioni per cui legittimamente ed opportunamente io posso dire di essere diventato uno dei più potenti opinionisti del web per cui a Domenico Polito alla casa editrice Leonida a Irene Pinas e a tutti voi tanti cari saluti da Stipe e Serpente di Serafino Massoni